Salve, sono Lorenzo Buongiovanni e quest'anno sono volontario del Servizio Civile Nazionale per il Centro Studi Futura con il progetto Franco Basaglia presso la sede di Napoli. Il progetto al quale ho presentato domanda era uno tra i tanti ai quali si poteva fare richiesta di partecipazione nel bando di Servizio Civile Nazionale. Tramite le piattaforme istituzionali ho scelto di presentare la mia candidatura al progetto Franco Basaglia per la sede di Napoli per via della natura assistenziale e di ricerca sperimentale di questo progetto. Le mie aspettative erano quelle di lavorare in squadra per fare attività di ricerca attiva sui bisogni delle persone, lavorando sul campo e facendo lavori di cittadinanza attiva, di volontariato, di pubblica utilità per le persone della mia città. Il percorso in tempo di crisi pandemica è stato flessibile e stimolante, ha dato a noi ragazzi la possibilità di organizzarci in autonomia il lavoro rendendoci partecipi delle attività mettendo al centro le competenze specifiche di ognuno. Ho la fortuna di lavorare a questo progetto con ragazzi e ragazze che si occupano di sociologia, rigenerazione urbana, confronto generazionale e scuola. Con loro c'è un confronto attivo sui temi e stiamo sviluppando insieme delle soft skills, mettendo al centro del lavoro le persone, dandoci sostegno e lasciando che ognuno spicchi con le proprie attitudini. Nei prossimi mesi mi aspetto di continuare a mettere a disposizione le mie abilità di montaggio, videoripresa, come già sto facendo grazie alle attività in smart working. Spero che, ad esempio, le attività di presentazione e dibattito che erano messe in conto nel programma di attività del progetto vengano messe in pratica attraverso gli strumenti digitali come Facebook. Per il live streaming ci sono gli strumenti che permettono uno streaming multicanale che metterebbe in comunicazione a distanza noi operatori, usando gli strumenti di cui disponiamo già. Sarei felice se potessimo usare questo volontariato per sperimentare una simile metodologia, visto che, di questi tempi, il live streaming è uno strumento molto diffuso per coinvolgere la cittadinanza e il pubblico. Ciao a tutti, sono Parisi Carmela, volontaria del Servizio Civile Universale, Centro Studi Futura, progetto Franco Basaglia, Sede di Napoli. Ho scelto il Centro Studi Futura come ente dove svolgere il Servizio Civile Universale, oltre che per il progetto proposto al momento della domanda, ma anche perché informandomi ho ritenuto il Centro Studi Futura un ente affidabile che si interessa alla comunità, cercando sempre di porre aiuti ed informazioni agli utenti circa le dinamiche di vita che accadono giorno dopo giorno. Purtroppo, con l'emergenza del Covid-19, che ha stravolto la quotidianità di tutti noi, anche il progetto iniziale che riguardava il consumerismo e la tutela dei consumatori è stato ridimensionato, ma nonostante ciò ritengo che i compiti svolti da noi volontari, anche se da remoto, siano stati e sono tuttora fondamentali e utili alla comunità. Per questo motivo le aspettative riguardo il progetto sono più che positive e spero che anche nel futuro lo siano. Infine vorrei invitare tutti gli giovani a fare domanda e quindi a partecipare al Servizio Civile Universale, in quanto si tratta di un'esperienza utile sia alla crescita professionale ma soprattutto personale. Buongiorno, sono Feliciano Napoletano, volontario del Centro Studi Futura, progetto Franco Basaglia, sede di Napoli. Siamo giunti a metà percorso del Servizio Civile Universale per il Centro Studi Futura e vorrei raccontarvi qual è stata la mia esperienza fino ad adesso. Avendo da poco terminato il mio percorso formativo, ho fatto domanda per il Servizio Civile Nazionale, scegliendo il progetto Franco Basaglia, in quanto essendo laureato in Sociologia, il progetto era attinente ai miei studi. Tuttavia, questo non è stato l'unico motivo che mi ha spinto a presentare domanda per il Servizio. L'esperienza del Servizio Civile Nazionale può essere considerata un ponte dal mondo della formazione a quello del lavoro, abituando di un orario lavorativo e a lavorare in un gruppo. Quando sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi, ancora non ci aspettavamo che da lì a poco sarebbe scoppiata una pandemia che ci ha portato alla necessità di una riorganizzazione dello svolgimento dell'attività lavorativa anche nell'ambito del Servizio Civile, che ha subito ritardi circa la data d'inizio, inerenti alla necessità di dover implementare il lavoro da remoto al fine di contrastare la diffusione del virus. Durante l'attesa dell'inizio del progetto, tramite una chat sulla piattaforma Facebook, siamo riusciti a creare un gruppo per scapparci informazione e conoscerci, rendendoci sin da subito un gruppo coeso. Arriva l'avvio del Servizio Civile, i primi mesi sono stati di formazione, dove la formazione è risultata molto interessante, approfondendo argomenti studiati all'università o approfonditi per hobby. Dopo la formazione, periodicamente ci venivano assegnati dei compiti, che ci hanno permesso di applicare gli strumenti appresi durante la formazione e in più mi hanno concesso la possibilità di rendermi utile alla cittadinanza in un periodo storico così delicato. Al giorno d'oggi posso dirmi soddisfatto di questa esperienza, che mi ha permesso di mettere in pratica anni di studio e conoscere nuove persone. Per i mesi a seguire, spero che riusciremo ad essere sempre più vicini alla cittadinanza, che in questo momento sta vivendo un momento di crisi o disagio dovuto alla perdita di lavoro o al confinamento, che rende le persone più sole. Spero che il nostro sportello attivo sia su Facebook che su Instagram nei prossimi mesi possa essere un utile strumento di aiuto alla cittadinanza più fragile. Salve a tutti, sono Adriana e sono una volontaria del Servizio Civile presso il Centro Studi Futura di Napoli per il progetto Franco Basaglia. Quando ho deciso di candidarmi per il Servizio Civile sapevo di aver di fronte un'opportunità sia di crescita professionale che personale. Tra le varie alternative ho scelto il Centro Studi Futura per il progetto e le attività proposte. Attività è un progetto dedicato alla tutela del consumatore, al consumerismo in generale, utilizzando un approccio e una metodologia estremamente competente. Per cui le aspettative iniziali erano delle aspettative estremamente positive, aspettative che sono state confermate nel corso del tempo. Ovviamente l'emergenza coronavirus ha costretto un po' tutti a rimodulare, a cambiare quelle che sono le modalità di lavoro, ma non per questo ogni giorno non si smette di imparare un qualcosa di nuovo, anche nonostante le difficoltà. Per cui le aspettative future continuano ad essere positive, sperando che questo percorso sia un'esperienza positiva in più da aggiungere al mio bagaglio. Grazie a tutti.